Allora, grazie a lei. Noi, dopo questi due anni che abbiamo andato, quasi due anni, abbiamo un porto di destabilità per fare l'attività di produzione del territorio, a tutti i prodotti di autonomismo, a tutti i prodotti di un prodotto culturale, a tutti i prodotti di un villaggio d'olio della nostra comunità, a personale di organizzazione, con un'altra della resta di lui, dove abbiamo preso un po' su un massimo 2.4 a livello nazionale. Faccio questa diversa per dire che queste spese sono, se lo dire, che sono state interpretate, sono un frutto di una serie di attività che sono state per creare all'interno del territorio e di necessità, ovviamente, di un minimo sul fuoco. E quindi, con il nuovo prodotto aereo, ognuno di un rilancio delle attività, come risulta da un rilancio, attività per il rilancio dell'attività. Quindi, se noi avessimo utilizzato l'elettorio aereo, noi abbiamo fatto una serie di attività che hanno portato la nostra comunità a avere una visibilità, non solo di vero, ma anche di vero nazionale, noi abbiamo fatto una serie di attività. Non è proprio una serie di attività.